a tutti ragazzi benvenuti a un nuovo video oggi sto a caso nella mia amichetta melissa e andremo al bullying quindi ci vedremo al bullying bene ragazzi ora stiamo in macchina stiamo andando al bullying dopo un'ora ragazzi ora siamo arrivati guardate non so se si vede siamo arrivati ora faremo il bullying ora siamo arrivati non so se mi sentite però siamo arrivati ci sta questa piccola che sta facendo questo andiamo grazie 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 bravo 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 ho fatto il strike cerca di non prendere le altre teste bravo 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 Grazie. 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 È più alta di me. Andiamo. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti